C'è tutte le manine sudate? Michelle, siamo sicuri? Ti ricordi lo scandalo del sangue infetto? Ma le cose sono cambiate, amore? Sono cambiate, sono cambiate. Li leggi i giornali? C'è gente che muore perché non controllano bene il sangue. Amore, c'è gente che muore perché manca il sangue. Colpa mia? Un piccolo sacrificio in cambio di una vita. Ce lo devo fare io? Guarda che controlli sono rigidi, ormai non c'è più nessun problema. Buongiorno. Buongiorno. Salve, noi siamo venuti a donare il sangue, sa? Ah, vi ringrazio a nome dell'associazione. Sa come si dice? Lo sa come si dice? Un piccolo sacrificio ti può cambiare la vita. Sarebbe bello che la pensassero tutti come lei. A chi lo dice? A chi lo dice? Pensi che lei non voleva venire? Addirittura si è messa in testa che voi non fate i controlli giusti, voi, con la professionalità che vi contraddistingue, che si va a fare più del male che del bene. Dice delle cose nel 2004. Lascia parlare, signorina. Non deve preoccuparsi, le posso assicurare che non c'è alcun pericolo. Non c'è alcun pericolo, amore. Stai calma, perché lei si impunta. Quando si impunta la cosa è veramente incredibile. Sono bastardo, eh? Allora, cosa facciamo? Il destro o il sinistro? Aia! Allora? Uno sdrammatizza e subito... Per prima cosa dovete compilare il questionario. Grazie. Allora, vediamo. Avete avuto di recente un rapporto sessuale non protetto, no? Come no? Stiamo cercando di avere un bambino e chiaramente un rapporto non protetto. Amore, si riferisce ai rapporti occasionali, se è sopromisco, no? La domanda è chiara. Avete avuto di recente un rapporto sessuale non protetto? E ovviamente sì. Ieri sera... Fabio! Scusi, ma sotto il rapporto sessuale non protetto si intende rapporti occasionali, non il proprio partner. Beh, un rapporto sessuale non protetto è un rapporto a rischio comunque. A rischio, siamo persone civili, signorina, eh? Stiamo insieme da sette anni, pratichiamo la monogamia, giusto, amore? No, ma non è questione di civiltà. Chiunque abbia avuto un rapporto sessuale non protetto può essere infetto. Infetto? Cioè, io sarei infetta? Secondo lei, io e lui andiamo in giro per strada e andiamo col primo che capita? Ma pensa a te, eh, amore? Ma guarda! Pensa a te. È incredibile, stiamo insieme da sette anni, giustamente non abbiamo rapporti protetti, eh? E questa dice che sarei infetta? Ma guarda! Allora, scrivo sì. Ehi, contenta? Dove andremo a finire? Ma dove? Dove? Dove andremo a finire? Io dico, dove andremo a finire? Dove andremo a finire? Dove? Ahia, andremo a finire. Fabio, c'è un tipo che mi sta fissando. È normale, Michelle, sei bella, ti fissa. Anche io ti tisserei se non ti conoscessi. Fabio, non sto scherzando, ho paura, questo qua è un maniaco, guarda! Va bene, ok, ho capito. Fabio, cosa stai facendo? Ha funzionato! È andato via! È certo che è andato via, lui è andato via perché è uomo, ma con le donne devi vedere. Vabbè, adesso non sto scherzando. E cosa fanno le donne? Eh? Eh, beh, 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 quando fai così... Si lasciano andare. Ah, cosa fanno via? Più o meno, sì. Adesso basta, Michelle. Michelle, dai, che poi... Non ci lamentiamo se poi arrivano i... Scusate che è un momento, è un periodo difficile. Michelle, per favore. Michelle! Scusate. Ciao, come è che fanno le donne? Michelle! Ma stiamo... Ma Michelle, scusate. Ci siamo fatti prendere. Si giri, però non rida perché... Dai! No, perché puoi... Scusate, permesso? Scusi. Permesso? Scusi. Scusi, signor. Scusi. Ma sei Fabio? Sì. Non mi riconosci? Francesco Fantini. In persona! Ma che grandissimo! È Francesco Fantini, lei è Michelle, la mia ragazza. Sì, sì. Eravamo a scuola insieme vent'anni fa, al liceo. Sì, grandissimo. Oh, ma tu... Grande pompa! Eh, insomma, me la cavolo, me la cavolo. Che c'è mai qua? Le solite cose, pago IVA, contributi, cose, lavoro, lavoro. Sarebbe meglio non farle, però facciamole perché sai come... No, per dire... Vanno fatte. Vanno fatte, vanno fatte, vanno fatte. Ma che fai di preciso? Ma niente, lavoro in uno studio di commercialisti, sono libero professionista, eh. Socio, quindi commercialista, commercialista. Buono, allora ti va bene. Beh, non mi la metto. Non mi la metto. Avrà anche un bello stipendio. Buono, effetti lo stipendio non è che poi sia un granché, eh. Però essendo commercialista, ne ha 101 di modi per aggirare il fisco. Mi scelta. È il mio amore. Non stare a sentire. È un grande, è un grande. Pensa che quest'anno, ridendo e scherzando, c'è andata la grande. Abbiamo risparmiato un sacco, avevano tutti i suoi sistemini. Mi scelta, va, 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 chi si loda si... Mi scelta se mi spiego, eh. No, no, chi si loda si imbroda, chi si loda, cambiamo disco. Tu come stai? Bene, cosa fai? Sì, io lavoro fisso. Bene, bene. Cosa fai? Maresciallo di fidanzo. No, grande! A me avrei visto i discotti di crudo. Parecchio. Grande, grande. Chissà come ti sta la divisa. Ma guarda, io ho l'impressione che tra un po' di giorni vedrai da te come sta la divisa. Dai, 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 dai. Ma come no? Anzi, ma vengo anche se non mi invitate. È il cucinale, amore. Sì, 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 sì. Ci vediamo. Sono troppo contento della fiducia. A molto presto. A molto presto. Ci vediamo senz'altro. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Ciao, eh. Ciao, Francesco, ciao, ciao. È il tuo amico di infanzia, amore. E che bello. Pensa a te, il mondo è piccolo, eh. Fabio. Amore. Cosa c'è, amore? Cosa c'è, amore? Amore. Cosa c'è? Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Dai, amore, ci vuole ancora mezz'ora. Bene, bene, fa piacere. Tieni un attimo, per favore. Cosa stai facendo, Michelle? Niente, ho letto su Donna Oggi che stare nella stessa posizione per ore potrebbe provocare l'embolia e l'infarto. Quindi vuol dire che io me ne sto qui in piedi tranquillo e rischio tutte queste cose? Assolutamente. Anzi, a certe volte anche le mi paresi. Vabbè, mi paresi adesso. Scusa, tira un attimo. Cosa stai? Ah! Ah, Michelle, Michelle, aiuto! Ah, ah, ah! Signora! 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 Michelle, porca miseria! Ho fatto un incopo terribile! Ho capito, ma non si dorme più in questa casa, così... Ho visto un film dell'orrore. Ancora! Non dormi se vedi i film dell'orrore, te l'ho detto mille volte. Fabio, a me piacciono i film dell'orrore, ok? Ma guarda che tipo, ma fatti gli affari tuoi. Sì. E poi non faceva paura, erano belli questi animatini belli, poi ciocchini, carini. L'unico problema è che quando li davi da mangiare a mezzanotte oppure li bagnavi, tac, venivano fuori delle bestie verdi, brutti, con tutte le salive che spruzzavano dappertutto, si moltiplicavano, diventavano aggressivi, andavano in giro per le città, invadevano tutta la città e questo va nella psica umana, non è che... Cioè è normale che uno poi guarda una cosa del genere... Deficiente! Siamo tra amici, no? No, adesso a parte gli scherzi, come ci organizziamo per le stanze stasera? Ma figurati, fate come volete voi. Non se ne parla neanche, non scherziamo. Non cominciare, prendete quella che volete e basta. Mi arrabbio. Allora se insistete, io prenderei la camera grande. Ecco, dai. Quella grande, quindi noi... Noi in quella piccola, amore, non è un dramma. Sì, quella piccola, però col finestrone grande, col sole che entra di taglio, un caldo porco dietro i camion che passano perché c'era un vu, un vu. Ti sono sempre piaciuti i camion, non vedo perché adesso... Io odoro i camion per loro casualmente, quella grande, fresca, bravo. Ma facciamo una cosa, scusate, adesso con tutto l'affetto. Tre giorni a testa, ci diamo il cambio. Ma scusa, Michelle ha detto... Michelle è un paio di ciuffoli! Ma guarda che roba! Uno invita la gente, queste arrivano a lei, si fregano le stanze migliori, tanto è normale. Ma cosa frega? Chi frega? Come chi? Tu freghi? Tu hai quella sgallettata della tua fidanzia. Ma no, ha parlato a Mr. Uniret. Non provare a offendere Fabio perché vi spacco la faccia. Ma la cosa è tua, Michelle, a compito di non dormire in garage. Uno, due, due... Sono i tuoi amici, non ti permette... Amici di che? Si, non perde! Ma amici di che? Ma te lo fai, te lo fai, mi 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 fai. Fai buona, parlo io, parlo io, non toccare, parlo io. Ok, cuori. Peta, non capisco, perché cuori? Perché l'ha detto Daniela. Vabbè, ma non comanda pick? Comanda pick, ma adesso Daniela ha chiamato cuori, vedi? E allora devo giocare cuori? Sì, sì. Ah, ho capito. Dai. Adesso mi frego io, eh. Un bel asso di pick. Vabbè, però... Ma non hai niente di cuori. Sì, ho il sette. E perché non lo butti, Michelle? Perché mi hai detto di giocare pick. No, no, la briscola è pick, ma se tu hai cuori sei obbligata a buttare cuori. Vabbè, io butto cuori, però è complicatissimo sto gioco. Chi è che te l'ha insegnato? Aldo. Ah, Aldo l'ingegnere è quello che insegna all'università, per forza. No. Aldo, mia nipote è quello che fa la prima elementare. Scusa. Dai che imparai che te. Prima o poi imparai che te, non è che... Tutto subito. Senti questa. Negli ultimi dodici mesi avete avuto rapporti sessuali con persone nate in uno di questi paesi. Camerun, Sudafrica, Chad, Congo, Nuova Guinea, Gabon, Nigeria o Tanzania. No? Io penso di sì. Anche... Anche se non ricordo bene di dove fosse questa donna. Ah sì? Così misteriosa. Eh sì, sì. Ho avuto un rapporto sessuale con una donna africana, ma non te l'ho mai detto, per non farti soffrire. Era per caso una pantera con le gambe fino alle orecchie, due grandi tette sode, un culo d'applausi? Ah ma la conosci? Ma dai! Però così sei razzista, eh. Così è razzista. Sono gelosa. Ma gelosa di cosa? È stato solo ed esclusivamente sesso, sesso puro. Niente coinvolgimenti emotivi. Non vedi che non mi ricordo neanche più se era del Camerun, della Nigeria o del Gabon? Che schifo! Gabon! Boh, boh, boh. Il Gabon! Finito? Un attimo. Ecco fatto. Vieni porto io, eh? Sì. Hai compilato tutto, amore? Sì, sì, ho fatto tutto. Non sapevo che avessi avuto un grave incidente automobilistico. 12 trasfusioni. Ero giovanissimo. E ti sei fatto di eroina per due anni con le siringhe che trovavi per strada? Sì, 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 l'ho fatto. Purtroppo l'ho fatto, un periodo difficile. Sei stato iniziato al sesso da una prostituta anziana soprannominata la lurida per la sua scarsa igiene personale? La lurida, sì. Avevo 18 anni. Una notte sono stato cloroformizzato da un transessuale. C'erano anche dei suoi amici, ma non ricordo quanti. Sì, ma non me ne parlare. È stata una nottata d'inferno. Chiudi. Ma sei scemo? Perché? Ma se avevi così paura di donare il sangue, bastava che me lo dicessi, amore, eh? Non c'era bisogno di scrivere tutte ste idiozie. Guarda che queste non sono idiozie, questa è vita vissuta, vera, sofferta. Anche la lurida? Soprattutto la lurida. Ah. Anche i suoi baffi. E quanta sofferenza. Io e gli altri, perché poi si facevano cose tutti in gruppo. Fabio. Passato, passato. Ti avverto, questo fine settimana usciamo con Marco e Daniela, perché io... Non ci penso neanche. Sono nostri amici. Sono tuoi amici. Io non li sopporto, Marco e Daniela, lo sai. Piuttosto prendiamo un bel DVD, ci guardiamo un bel film in televisione seduti sul divano. Che mondanità! Fabio, ti prego, portami a ballare. Non ne posso più stare sempre a casa. Guarda, guarda, no, no, idea, idea. Prendi un CD del Buddha Bar, lo metto su e tu ti puoi dimenare nel salotto di casa, sul divano, anche fino all'alba. Andiamo in montagna, se c'è bel tempo, con Marco e Daniela. Ti prego, almeno si spieghiamo un pochino di aria fresca. Allora, io non sopporto la montagna, lo sai. Odio Marco e Daniela, io li odio Marco e Daniela. Perché devo andare in montagna e prendere l'aria fresca? Se devo prendere l'aria fresca, vado a giocare a golf. Domani, infatti, gioco a golf. Ah, sì? Non mai avevi detto niente. Mi dispiace. Domani gioco a golf. Domani gioco a golf. Grazie. Allora, un piccolo dubbio, noi due dobbiamo fare un bambino. Secondo lei dovremmo fare un test per capire se siamo compatibili? Giardi, non c'è bisogno. Mi è bastato ascoltarvi un minuto per capire che non lo siete. Ma si vede così tanto? Cambio lenzuola! No, Michelle, è mezzanotte. Come dice la regola, questo nuovo va usato subito. Ma che regola è? Che regola è? Oggi ho comprato queste lenzuola da un bambino tunisino, di un carino, ma di un carino. Aveva due occhioni marroni grandi. E mi hanno venduto queste lenzuola tutte colorate, fatte a mano, eh. Sono tutte dipinte a mano. Guarda che belle che sono, sono meravigliose. Me l'ha detto lui. Guarda, sono perfette per noi. Michelle? Era così carino. No! Domani prendi l'altra metà e ci dormi te, eh? Tu e il bambino bellino, dai. Dai, anch'io un pochino. Buonanotte. No, non fare il solletico. Buonanotte. Vi sposate? Sì. No! Ma dove? In chiesa e in comune? No, no, in chiesa, col viaggio di nozze e tutto il resto. Amore, hai sentito? Si sposano in chiesa con il viaggio di nozze. Benissimo. Michelle, vuoi farmi da damigella d'onore? Oddio, Dani, questo è troppo per me, la damigella d'onore. No, ma... Grazie! Che bello! Si sposano, amore. Ma se fa così adesso, pensa quando vi sposate. No, ma è per dire, si dice, è per dire... Amore, tu sai qualcosa che io non so, vero, mamma? No, no, era per dire. Oddio, grazie, amore mio, perché ho organizzato tutto questo. Che cose, amore. Anch'io ti amo, anch'io lo voglio, lo voglio, amore. Ma era per dire, cosa vuoi, cosa vuoi? Oddio, mia valgrazione. Era per dire, era per dire. Amore, amore, amore. Amore, era per dire, era per dire, per dire, per dire. E' il mio radicchiotto che sta per fare un gesto d'amore che può salvare la vita a qualcuno. Eccoci qua, buongiorno. Vuoi che stia qua con te, tesoro? No. Ma ti tengo la manina. Ma che manina, Michelle, stiamo scherzando? E tu mi stai porto. Ma no, io ho fatto il paracadutista, ci facevano delle punture tutti i giorni con degli aghi grossi così. Così, negli occhi, nelle orecchie. Arriva, ti lascio da solo. Ma a me piacciono gli aghi. Tranquillo. Scherzi, poterli mangiare gli aghi, guarda. E' bravo il mio radicchiotto, ci vediamo dopo. Vai tranquilla, non ti preoccupare. Mi dia il braccio? Oh, mi dia il braccio che cos'è sta roba? E' la siringa. Ma che siringa? Questa, i cavalli ci fanno le punture con questa siringa qua. Ma muoio di sanguato. Amore, avevi paura, amore. No, glielo dica a lei, no, stavamo discutendo. Stiamo con te, dai, ti salgo. No, discuteremo sulle dimensioni dell'ago, non c'è più grosso? A me piace più... Sei sicuro? Si, riesce più velocemente. Vado? Un bel lagone, vada, vada. Sicuro, sicuro? Prego, signorina, ve lo... Sì, adesso... Allora, no, 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 no. Se tutto mi deve disinfettare, lei si è lavata le mani dopo... Sì, sì, tutto apposso. E' grosso questa ago, signorina, per cortesia. Guardi, non ti preoccupare, la dimensione normale è di un aglio. Ma che dimensione normale? Ma io ho un cugino è morto con un aglio così? Non sentirai nulla. No, 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 io non lo voglio. Guardi. Mi fa schifo, veramente. No, no, ma sia tranquillo. No, ho detto di no. Che? Hai paura, l'ho visto. Stavamo dicendo, siccome lei voleva mettere... Mi era dicchiato che... Lei voleva mettere l'acce amostatico, gli ho detto no, perché preferisco... Dai, sto qua con te, amore, sto qua con te. Dai, 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 dai. Non c'era nulla di cui preoccuparsi. Infatti io proprio non mi preoccupo per me. È più tranquillo. Ma io sono tranquillissimo, non ho donato litri e litri nella mia vita. Una volta in un incidente, per dire, mi sono buttato dentro sprezzante del tutto pieno di sangue, proprio anche gli aghi, non... Piuttosto, mi hanno detto una cosa, penso sia una stupidaggia. È vero che il sangue tipo scade come lo yogurt, no? No, no, il sangue si può usare entro 40 giorni. Ah, è, sì. Fa' questa cosa. Stringa, stringa la mano, così. La, per usare, per fare fluire... Giusto. Di più, ah, infatti, proprio sta uscendo, mamma mia, rosso, eh? E se ne va, il mio che se ne va, bene, perché è meglio, perché così va uno... Sì. Non so come faccia certa gente, appena vede il sangue. Signor Fabio, 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 signor Fabio. Cosa è successo? Signor Fabio! Signor Fabio? Signor Fabio? Signor Fabio? Signor Fabio? Che... Si sente... Cosa è successo? Signor Fabio? Signor Fabio? Signor Fabio? Signor Fabio? Signor Fabio? Eh? Tutto bene? Chi sei? Eh, sono l'infermiera. Non si preoccupi. Bella infermiera. Giacomone, Giacomone. Bello, eh? Copenagham, il congresso. Bello, dai Fabio, ottimo. Perfetto, tu in tutto. Organizzato, riunioni, organizzato. La prima volta che seguo una riunione... Quasi Svizzera, mi vien da dire. Sai che l'ha organizzato Cristina, eh? Tutto? Bravi. Oh, eccola, vedi? Cristina. Ciao. Non ti ho ancora fatto i complimenti per Copenaghan, un lavoro. Grazie Fabio, ma è solo il mio lavoro. E insomma... Michelle, ti ricordi, no, di Cristina? Sì. Certo, da 200 anni mista, no? No, collaboratrice, collaboratrice. Oh, scusate. Dove ho la testa, eh? Mi ero dimenticata. In effetti Fabio mi ha detto che per l'immagine e lo studio cercavano proprio una... una così. Cos'è gas questo? Fuga di gas? Vado a controllare un attimo perché, scusate, è compromesso, è quell'uomo così. È il gas, scusate. Non vorrei. Siamo qua. Non deve essere facile lavorare con Fabio, eh? Ma no. Io mi trovo proprio bene a lavorare con lui. Sì? No, anche perché a casa è tutto precisino, deve essere un rompiballe sul lavoro. Ma no, è sicuramente pignolo. Ma quanto basta? È al punto giusto. È quello che bisogna essere per questioni di lavoro. Sì, assolutamente. Perché io, mamma mia, non riuscirei mai a lavorare con uno come lui perché a casa c'è tutto saputello, fa sempre quello che è il primo della classe, dai. Ma sai cos'è Fabio? È una persona talmente preparata nel suo capo che è bravissima. Quindi è giusto che si senta così sicuro di sé? Sì, chi dice il contrario. Ma l'hai visto? Quando viene in ufficio, dai, tutto sempre vestito, impettito, pesante, sembra un vecchio, dai. È bene tutto. È sicuramente impeccabile. Ma sai che cos'è di bello? Che poi strombatizza concerti particolari. Cioè? Ha dei boxer colorati che sono troppo belli. Fabio, scusa, volevo dirti una cosa. Fabio, volevo dirti una cosa anch'io. Sì, Fabio, scusate, deve essere finito lo champagne. Fabio, vieni qua. Scusi, quell'ospite mi scusi. Sì, Michelle, un attimo, vada a vedere le scorte di champagne. Devo dirti una cosa anch'io. Pronti, sono subito da te. Vieni qui. Un attimo solo, sì. Ecco qua. Fabio. Un attimo. Hai un fidanzato? Una specie di fidanzato. È che lui lavora a Palermo e non ci vediamo quasi mai. In pratica sei da sola? Eh, diciamo di sì. Senti, Michelle, posso confessarti una cosa? Beh, dipende. Hai un gran fidanzato. Grazie. Lui parla sempre di te. È veramente innamorato. Non come fanno tutti quegli uomini che non fanno altro di dire di non essere fidanzati. grazie. Avrei mai pensato... Cioè, mi fa piacere sentirti dire queste cose, davvero. Grazie. Amore. Sì? Oh. Amore. 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 Che amore di divano? Amore. Dov'è l'amore del mio capo? Amore di Giacomino. Allora, mi spieghi un attimo. Amore. Fabio. È il mio amore. Michelle. Fabio. Il mio amore principale. Ciao, amore. Sera. Mi spieghi questa cosa, per favore. Amore. Che amore di gradini che ho questa carta. Fabio, vieni qua. Adesso mi spieghi questa cosa. Amore di università. Guarda, sei un professionista del mio calibro. Deve stare qui a dividere la carta dalla plastica dal vetro. Ma porca di una miseria. Questa dove va? Dove va? Vetro. Qua. Che poi lo so, arrivano. Questi qua prendono, fa tutto un mucchio, lo buttano tutti nello stesso posto. Lo so. Allora io per ripicca, torno a casa, tengo la macchina accesa per tre ore. Tre ore la tengo accesa. Così inquino. Perché a me piace inquinare. E mi piace darmi il deodorante perché se no vado in ufficio e puzzo. Altro che il buco nello zolo. Meglio. Il buco nello zolo meglio perché ci si abbronza più facilmente. Perché cos'è? Mi piace inquinare. Stasera apro tutti i rubinetti e sto aperto tre ore. Quattro miliardi di litri d'acqua butto via. Chi se ne frega. Oh. Adesso il bicchierino. Il bicchierino mi va nella carta o mi va nella plastica. Perché nessuno mi... Mi... Salve, buongiorno. 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 Lei è... Venga, buon uomo. Bella la vita. Bella, bella la vita. Spaparanzato in un bar a bere birra con la donna che amo Che c'è di meglio, eh? Ma dico, bella la vita, spaparanzato in un bar a bere birra con la donna che amo Che c'è di meglio, questo è un altro Sai che delle volte mi sembra di essere come una coppia d'anziani? Una noia mortale Non abbiamo più niente da dirci E tu addirittura ripeti le cose Lo so Renditi conto Allora, Gentiloni è andato sul Mar Rosso No! Te non ci crederai Sì, sì, sì Sono tornati con l'altro collega Dice che a un certo punto lui è uscito dall'acqua Aveva preso un pesciolino così Non solo che aveva la maschera L'ora è uscito e ha fatto Oh ragazzi, ho preso tutto No! Aia! Scusa, scusa Il giocato nuovo Un po' d'acqua va via Oh, e che è un po' d'acqua? Un po' d'acqua va via Qua ci vuole la trittoria, Fabio Eh, forse sì, mi dispiace, scusami Fabio! Oh! T'ho visto da là Ciao, quanto tempo Come stai? Benissimo, non si vede Porca miseria se si vede Benissimo proprio Sempre in forma Boh, ci vediamo magari Cioè nel senso Ciao Fabio, chi è? Eh? Chi è? E Katiuscia, dici? Ci sei andato a letto? Mmm, no Parla! C'è qualche... Un po' di... Ci sei andato a letto? Tecnicamente no Eravamo in piedi Uno schabuzzino Ah! Dai, amore Un sacco di tempo Non ci conoscevamo neanche Amore, dai Oh, brava Ragioniamo un attimo Perché ne... No! No! Ah! Brucia, brucia, brucia Ah! No! Porco! Ma per scherzare? Com'è che si diceva? Eh... Smirni No! Smirni Prosto! Prosto! Che miseria Sarebbe anche facile, però Dicevamo il soggiorno Il soggiorno Il soggiorno Ma chi sono? Allora, il soggiorno in stile moderno Però con dei colori caldi E magari delle decorazioni sulle pareti Cosa ne dici? Va bene Non te ne frega niente? No, no, me ne frega Che un arredamento non è che sia proprio il mio forte Però mi sembra bene Amore, la casa è nostra Deve assomigliare tutte e due Per me è importante conoscere le tue idee Dai, dico qualcosa Ma che si susseglie, no? Veramente? Eh, certo! Allora lo dico, eh Eh, sì! Camera da letto Magari non... Carta da parati Arrigoni arancioni Grandi Carta da parati Arrigoni arancioni Sì E dove siamo? A Ferragosto Rimini In mezzo agli ombrelloni Scusa Amore, ma hai chiesto di conoscere le mie idee? Te le dico E per fortuna sono solo idee Carta da parati Arrigoni arancioni Non metterei mai in pratica Una cosa del genere Che schifo Invece questo sì che è un colorino bello Guarda Azzurrino tenuo Cosa mi dici? Va bene Mi sembra che te ne importi molto, eh? No, non importa Bene Partecipare Intervenire La casa è nostra Tesoro Su Di qualcosa Capito, ma se poi Allora io direi magari un blumare più che un... Blumare! Il conto per favore Non ci posso credere Marco e Daniela si stanno separando Non te ne importa niente, vero? Come no? Sembrava una coppia perfetta Poi a un certo punto Daniela ha detto che qualcosa era cambiato E non erano più felici Fabio Tu mi ami ancora, amore? Sì che ti amo, cucciolo, sì Anche perché noi non siamo mica come loro Che non esternano i loro sentimenti Che non affrontano il conflitto, eh? Siamo una coppia che brucia, che vive Certo discutiamo, litighiamo Ma è così che si affronta la vita, eh? Noi non potrebbe mai succedere una cosa del genere, vero? Certo, figurati Non ci separeremo mai, giusto? No Boh Allora Perché non invitiamo una di queste sere, Marco e Daniela? Perché un po' che non li vediamo Come stanno? Raccontami, non mi racconti mai niente Fabio! Ma non hai ascoltato una sola parola di tutto quello che ti ho detto? Come no? Rapporto di coppia, giusto, giusto Marco e Daniela si stanno separando No! No! Ma sei deficiente! Ma quando? Oddio Ma era una coppia perfetta Amore, è un canguro, non è un pollo Dai, dai che arriva gente Dai, ciao Ciao Daniela Ciao Danie Ciao Hai visto che bella pancherella che ho messo su? Sei una soddisfazione pazzesca Michelle, non vorrei vendere questa lampada Perché? Ma perché è magnifica Io non ci posso credere che la vuoi vendere per pochi euro Guarda che un pezzo da collezione non la puoi vendere così Sai che hai ragione? Ah sì Fabio, mi porti in macchina questa lampada per favore Sì, tieni un attimo Sì Michelle, sei pazza, vuoi vendere anche il quadro Ma è brutto, Dani Ma il quadro sì, ma guarda la cornice, è bellissima Dici? Ma sì Sai che hai ragione? Ecco Fabio Eh? Amore, mi porti anche il quadro in macchina per favore Perché non vorrei che lo prendesse qualcuno Michelle, sei pazza, non puoi vendere neanche questo candelabro Ma il candelabro, dai Ma dai, non mi dicevi che era quello che tenevate ai piedi del letto I primi tempi che stavate insieme Ma è vero, ne ho viste di cotte e di crude, quello lì Fabio, metti in macchina anche questo per favore Eh? Dai questo, muoviti Ah, poi questa qui me la ricordo, l'avevi in montagna Questa qua, nei? No, ma questa è vecchia No, però è bella, secondo me è elegante Dici? Sì, 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 sì Questa, anche questa qui non puoi vendere Funziona? Sì, funziona, però non è che... E fa niente, se funziona Cioè, era di mia nonna Appunto, è di design, è un piccabla Dai, capito tutto, togli Poi, cosa stai facendo? Lo sto facendo Tutto da portare via Dammi sta ciocco Fabio, quella di brioche la deve tenere Ma rovina con la giornata, rovina Ma Fabio Contenta, brava, si contenta, brava Brava Daniela, brava, brava Daniela, brava Ma pensa che noi l'abbiamo messo qua praticamente Per attirare la gente Attenzione, certo Infatti non c'è il prezzo Se guardi, anzi mettiamo Bisogna stare attenti A me veramente sembra in vendita Comunque se vuoi lo compro io Pur sempre un ricordo Daniela No, no, no Stai scherzando? Non ci freghi Il vaso è lì e non si tocca Ma scherziamo Per curiosità, così Quanto Per sapere Ma almeno 50 euro Buon fatto, dai Tu Ma non è in vendita il vaso In vendita Non è in vendita Non è in vendita Non è in vendita Sì Bambolina Omaggio Baghino Mi daresti una mano Per cortesia Volentieri Grazie Qual è? Bababia Michelle È la crema alle alghe Ma arce sono le alghe Ma puzza in una maniera schifta Ma sei eccezionale sta crema Guarda che l'ho pagata 300 euro Cosa 300 euro questa roba qua? Che cosa serve? Contro la cellulite Tu non hai cellulite, amore Mi verrà Ma che ti verrà? Dove dovrebbe appalesarsi questa cellulite? Qui, qui e qui No, niente da fare Queste sono zone che conosco molto bene E frequento spesso Ma succederà Amore Guarda in un futuro Sarò piena di cellulite Fidati Ma chi te l'ha detta sta cosa? La mia nuova estetista Quella che mi ha venduto la crema Ah beh, certo Se l'ha detta la nuova estetista È chiaro Ha parlato sicuramente Contro il suo interesse Certo Bambabia Ti sento una roba Non so' più pubblica Amore Non esagerare Ma guarda Ma no Amore Dai Baghino! Oh, è arrivato finalmente! Eh sì, hai visto? Sei contenta? Eh sì, la proviamo? Proviamo? Eh, tra l'altro mi sembra anche che sei un po' ingrassato, sai? Ah sì, adesso perché è arrivata la bilancia sono ingrassato. Ti è venuto un po', ti è venuto un po' di pancetta, quei due o tre chili sono sicura, sì. Prova a pesarti, potrebbe essere anche una mia impressione. Potrebbe essere, ma vedrai che, infatti... Vediamo? No! Che? Tre chili e otto in più! No! Ma quando cavolo li ho presi tre chili e otto? Ma, ma, ma secondo me non sei grasso, amore, sai cos'è? Che sei un po' gonfio. Ho capito! Ma sono tutti liquidi, amore, sono tutti liquidi. Perché non provi ad andare a fare tre giri intorno alla casa, ma proprio sprint? Così tiri fuori tutti i liquidi? Dici? Torni come nuovo, eh! Boh, vai! Dai, dai, amore! Ti aspetto, eh! Ti aspetta, eh! Oh, vaghino, bravo! Hai sudato, eh! Dai, tisati veloce, 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 perché sennò... Vai! Ma no! Uguale, Michelle! Ma testina! Ma anche tu ti pesi con le cose bagnate addosso? Hai sudato, hai buttato fuori il sudore? Adesso i vestiti sono pregni di sudore! Dai, togliti tutto, dai! Dai, veloce, amore, tutto, eh! Tutto, anche i calzini! Bravo, il mio amore! Anche l'orologio, bravo, vai, vai! Dai, pesati! Sei sicura che adesso... No, veramente, amore! Non è possibile, ancora 80 chili! Ce l'ho io l'idea, ce l'ho io! Ascolta, veramente, credimi, vai sulla bilancia con una gamba sola alzata e butti fuori tutta l'aria, vedrai, vedrai, vai! Tira sulla gamba, butta fuori tutta l'aria, vai, 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 vai! Tieni l'amore, tienila, che c'è scritto attendere, prego, tienila, 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 tienila! No! Ma, Michelle, non è che posso morire per pesarmi, dai! Amore! Non è possibile, sono in mutande! Dai, dobbiamo rifare da capo, dai! Pesati! Eh? Pesati tu un attimo, scusa! Oh! C'è l'allarme della madre! No, pesati, Michelle! 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 Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso verifichiamo... Michel? Michel! 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 Cos'è quella cosa lì? Un calendario... Da cosa lo capisci? Dai giorni, 1, 2, 3 fino a 31. Ti rendi conto dell'importanza di un calendario? Il calendario è stato inventato dall'uomo secoli e secoli fa. Le calende greche. Va bene. Per gli impegni, una società intera vive di impegni, di appuntamenti. Sei un commercialista, oh! Va bene, Michelle. E mi abbini le donne nude con il calendario, non c'entra niente. Non c'entra niente, Michelle. Ti rendi conto dello schifo? Michelle, va bene, va bene. L'ho trovato, me l'hanno regalato in edicola, va bene. Allora, se no si può abbinare, non abbiniamo. Eh, e che cos'è? Una polemica di ore. Ecco fatto. Oh, i giorni, le donne. Oh, le calende greche. Salute. Salute. È un'ora che stiamo girando. Sei sicuro che è di qua per il centro? Sì, è di qua, te l'ho detto, Michelle. Chi ha il senso di orientamento in famiglia? Io? Ho capito, ma Fabio! Siamo passati di qui, ci sono i punti di riferimento, mi ricordo. Sembra che ci siamo persi, tutte le volte a fare i drammi. Adesso non mi ricordo se... Girati. Che? Quando è che ci facciamo una bella partita a tennis? Ma magari, Cristina, magari, se mi facessi questo onore domenica se ti va bene. Cristina è fantastica a giocare a tennis, una campionessa vera, ha vinto anche un torneo, due anni fa. Un torneo mondiale, un angolo, combatevi tra i punti. E poi vedessi, poi vedessi come scia, vedessi come scia. Io non l'ho mai vista, però mi dicevi che hai vinto una medaglia nello slalom, una muscolata. Un metallo, uno, devo fare i gesti. Ma sai, è facile, io sci da quando ho quattro anni. Eh, quattro anni, figlio. Però mi piace molto anche lo sci d'acqua. Vero, 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 vero. Ti ricordi che Evoluzioni faceva un po' spettacolare, le frecce tricolore, sapete? Un po' spesa per... Ma sì. E tu, Michelle, ti piace fare sport? Ne fai bene qualcuno in particolare? No. Però ho fiuto infallibile. Riconosco una stronza in un attimo. Libera il telefonino, scusate, dove lo lasciate? Lucina. Qui tutto a posto, ragazzi. Tutto bene? Tutto bene? Tutto molto bene, molto bene. Scusate un momento. Scusate, eh. Baghina. Baghina, cosa c'è? Ti girano? No. No? Sicuri? Perché mi guardi con una faccetta? No, niente, è tutto a posto. Va bene, posso sapere. Ma mi sei capodirtelo, però, il tuo nuovo collega Franco. Franco? Sì. Chi? Lui? Lui. Lui là. Una roba... Cosa fa? ...imbarazzante. Cioè, ma guardato in una maniera... Franco questo? Sì. Dovevi vedere che cosa ha fatto, mi ha squadrato la testa e i piedi, sono arrossita. L'età mi sembra un po' strano, perché Franco è un po' schivo per usare... Ma questo non è niente, perché se vedevi Valerio ha fatto molto peggio. Valerio? Sì. Questo lì. Questo ragazzo qua. Guarda, veramente, cioè, capito che sono qua da sola da mezz'ora, però dai, provarci con una ragazza fidanzata mi sembra un po'... Mi stai dicendo che Valerio, questo qui, si è trovato con te? Certo. Perché devi inventare queste cose, amore? Per farmi ingelosire, mio amore. Ma cosa stai dicendo? Perché dici queste cretinate? Valerio e Franco stanno insieme da dieci anni, fai un po' te. Valerione e Francone, dai che facciamo un bel brindisi a questa convivenza. Ma quanto vi amate, quanto vi amate quei due, eh? Piano, piano, attenzione. Allora un bel applauso a Franco e Valerio! In i dieci anni insieme, mille di questi anni. Salute, salute, salute. Insomma, lascia fare. Buono, eh? Bene, 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 bene. Pusce. No. Cosa fai? Il test del mese, amore. Cioè? Il vostro uomo è un buon amante? Amore, non hai bisogno di un test per saperlo. È chiaro? Sì. Sì. Lo facciamo insieme, amore? No. Dai, dai, amore, fai insieme a me. Non ci penso neanche, non ho voglia. Ma di che cosa hai paura? Di niente, di niente. Aspetta, eh, che devo prendere una cosa. Cosa fai con un righello? Serve per rispondere alla domanda otto. Ah. No, no, allora facciamo le cose fatte bene, dai. Vai di là in cucina nel secondo cassetto, dovrebbe esserci uno di quei metri da falegname. Fabio. Dimmi. A te non sembra che gli esseri umani abbiano proprio smesso di farsi, proprio di farsi quelle grandi, belle domande? Sai, quelle sull'esistenza. Cioè, intendi dire tipo quando l'Inter vincere ancora uno scudetto? Amore, sto dicendo sul serio, dico le grandi domande, tipo chi siamo? Dove andiamo? Vabbè, chi siamo? Siamo una coppia. Dove andiamo? Dovevamo andare al cinema, invece abbiamo deciso di rimanere a casa. Adesso non saremo tutta l'umanità, però ne siamo dei degni rappresentanti. Infatti, cosa ci insegna la storia dell'uomo? Ci insegna che dagli albori la più... Non lo faccio apposta. Michelle, lascia che ti spieghi, perché altrimenti no. Quello che voglio dire è molto semplice. Dottore, lo vede? Eh, Michelle, forse sarebbe opportuno lasciare che Fabio esprima il suo pensiero. Va bene, dai. Grazie. Quello che voglio dire è molto semplicemente... Michelle, quello che voglio dire è ma stai a sentire una volta... Fabio, ti prego, non ricominciamo, perché questo è il mio corpo e ci faccio quello che voglio, chiaro? Allora, il corpo è il tuo, va bene, ma vuoi darmi dei punti di riferimento precisi, fermi? Settimana scorsa volevi tagliarti i capelli a zero, adesso vuoi farti un altro tatuaggio. Perché non ti fai crescere la barba col pizzetto? Magari ti sta bene, no? Fabio, si sta parlando di un piccolo, semplice, innocente tatuaggino. Un piccolo, intanto un altro. Per favore, per favore, ricominciamo da capo. Allora, Michelle, lei vorrebbe farsi fare un altro tatuaggio, giusto? Sì. E servirmi perché? No, che poi sarà bello fra vent'anni vedere una vecchia che gira per strada con una coda di dragone che esce dalla pancera. Un spettacolo meraviglioso, con i nipotini. Cos'è, nonna? Una coda? Dai, per favore. Ma non voglio farmi il drago. Ah no? Cosa facciamo? Un angelo in snowboard? Facciamo un diavolo che fuma una canna così, trasgressivo, giovane, per favore. Allora, innanzitutto me lo voglio fare sul culetto. Bene, molto bene, sul culetto, benissimo. E cosa ci facciamo sul culetto? Un cuore con scritto su Fabio. Fabio, però ti accompagno io, eh? Perché ci tengo, sono curioso di vedere, sai? Ma senti, questi aghini sul culetto. Ti, 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 a fastidio, amaro. Allora, vediamo se avete capito qualcosa della raccolta differenziata. Guarda che non sono un cretino. Questo lo vedremo. La carta, l'avete messa con la carta? No, l'ho messa con l'uranio impoverito, così oggi mi andava di far così. Bravo, facciamo le battute, fatemi controllare, che è qua? Sono giornali. Su, non c'è niente a controllare. Va bene, va bene. Oh! Oh! Senta. E questo non va bene. Lo so, ho chiuso, questo passato ho chiuso, parola. Ma non mi interessa, non mi interessa. Questa è patinata, va messa con la carta patinata. Adesso facciamo la raccolta di voi. Aprite le mani, sì, adesso, aprite le mani. Ecco qua, un... Oh, questa pure è patinata. È patinata. Sì, sì, che è qua. Guarda come è patinata. Eh, sì, per l'amore di Dio, non metto in dubbio, però patinata. Pure questa è patinata, va messa con la carta patinata. Non so se hai notato, io sono un po' amante. Sì, ma è senza dubbio, però questa è patinata. Ciao, Fabio. Patinata, patinata. Come va? Che fai? Eh? Bene, e tu? Niente, niente. Stiamo, cosa stiamo facendo? Stiamo bruciando le riviste brutte, quelle pornografiche sue, fra l'altro, per moralizzare un po' il quartiere, che non se ne può più. Grandissima. Ciao, ciao, ciao. Grande. Eh, insomma, eccoci. Ma basta! Mi sono stufato di lei, va bene? Basta! Senti, basta, lo dico io qua. E cos'è? Ancora non abbiamo imparato a mettere la spazzatura a posto. Io non la raccolgo nemmeno. Bravo, bravo, bravo. Telefono al sindaco io. Eh? Vergogna. Cosa? Che lei non ce ne è po' più. Michelle, cosa stai facendo? Et voilà, le giorni sono fée. Sto attacando i promemori sul calendario. Questa scadenza importante. Chiaro, li attacchiamo qui, 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 qui e qui. E qui, qui, qui ci sono i giornini piccoli, è normalissimo. Eh, scusa, puoi tenere un attimino? Ti devo scrivere. Sì, scadenze importanti, eh. Cambiare l'acqua al pesce rosso è una scadenza importante. Certo. Se non abbiamo neanche il pesce rosso. Bravo, comprare pesce rosso. Guarda, mettere i peltrini alle sedi. Sì, perché se no fanno rumore. Fanno rumore, qui una paperella, un pesce di rosso. Ah, perché adesso non posso neanche più disegnare, vero? Oh! Che? Importantissimo! Aspetta. Cosa, sentiamo qual è la priorità dell'uomo. Ecco qua! Comprare i post-it. Eh, se no finiscono, eh. È chiaro. Guarda che ti hanno dei vicini bellino. Bello, lui, bello. Corri, corre di là, corre di là. Guarda dov'è. Cosa stai facendo? Fabio! Fa! Fa! Basta! Fa! Fa! Amore! Tadà! Nuovo calendario! Amore, come ti sei vestito? Fa schifo! È carino, per te l'ho fatto per... Ma che schifo, amore! Ma hai pena! Guarda! No! Ma non hai... Ma no! Ma non hai peli! Ma fai pena! Aspetta! Non lo voglio metter aprire! Non ve lo farei vedere! Fa vedere! Ma chi è che ti ha vestito? Non lo voglio metter! Quando è che le hai fatte? Ma come si fa ad essere così ridicoli? Bella festa, eh! Non dovrei dirlo perché è casa mia, però... Ho i miei collaboratori! Fabio! Sì, eccolo! Scusate! Ciao! Tutto bene! Ti devo chiedere una cosa! Sì, amore! Mi devi rispondere sinceramente! Io sto calma! Ok? Sì, tutto! Cosa ne pensi di Cristina? Di Cristina? Di Cristina! Bene! Bene! Grande collaboratrice! Ci cattiamo al volo! Non intendevo quello! Sì, cosa intendevi, amore? Ti ho chiesto cosa ne pensi fisicamente! Sì, di chi? Di Cristina! 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 Ciao a tutti! Sei gelosa? Eh? Amore! Lo sai che amo solo te! E poi guarda, con Cristina non c'è proprio problema! Anche volendo, siamo proprio due cose separate! Io in ufficio, per scelta, e lei invece in giro a fare convention all'estero, cosa che io non voglio fare, certo! Ci sentiamo per telefono molto, però è tutto là! Poi lo sai, io sto lì, in casa, voglio stare con te, amore! Tu, amore! Poi Cristina, pensa a te! Fabio! Sì? Fabio, festeggiamo il viaggio premio per la chiusura del contratto con Wilson! Il contratto con Wilson! Con Wilson, proprio! È fantastico! A Parigi, tra due giorni partiamo! Preparo le valigie! Preparo le valigie! Scusa, arrivo! Eh sì, davvero, mi chiediamo salute! Parigi, la nuit, toujours, bonjour! Parigi! Due giorni insieme! Parigi! Salute! Parigi, due giorni! Ah sì? Dov'è che vai? Scusa, non ho capito! Io scappo, ma non ho niente da nascondere! Vieni qua, non tu scappi! Sarebbe carino andare a Parigi! Amore, amore, per favore! Amore, scusate! Dov'è che vai? Vedendo la festa, è bellissimo! Aia! Michelle! Vieni! Oh, finita! Finita! Però bella festa, amore, eh! Brava! Simpatici anche i colleghi d'ufficio, no? Simpatici, simpatico uno, simpatico! Valerione! Valerione, quando lo prendi... Mario! Carino Mario! Veramente, Mario è simpatico, carino, anche disponibile, sai! È stato troppo carino, perché ha detto, non voglio disturbare Fabio, dai dammi le sue chiavi della macchina, così gliel'ha sposto tranquillamente! Chiavi della macchina? Sì, Mario, quello del computer, il genio, che poi gli ho dato anche il tuo computer, perché era rotto, che mi aveva detto che era rotto e te lo riportava domani in ufficio! Quello... Quello alto, quello... Ma cosa vuol dire così, Michelle? Come l'ha fatto, Michelle? Ma che amico di chi? Ma quando non c'era su Mario? Ma basta a fare gesti, cosa vuol dire così, gli occhi, la bocca, come erano, Michelle? Ma come con... Ma che mascella? Computer, Michelle! Era alto, come... La macchina! Michelle! Il computer, la macchina! Non voglio vedere come cammino! Ma guarda, amore, guarda, così lo riconosci. Michelle! Camminavo così... Michelle! Amore! 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 La macchina! Guarda qua, ma te lo ricordi? Ciao, Michelle! Marchino! Ciao, Marco! Come stai? Eh, non c'è male, sono venuto a trovarvi. Come vanno gli affari? Benissimo, ma se che stiamo vendendo tutto? Eh, tra l'altro è appena passata Daniela. Ma dai! Sai che mi dispiace che vi state... Sì, anche a me. Cioè, che vi sia lasciata. Eh, beh, che si vuole fare? Capita, no? A proposito, ma quello è il vaso che vi abbiamo regalato io e Daniela a Natale? Eh? Sì. Bravo, bravo. Infatti, però non è in vendita. Ah, no? No, lo teniamo come specchietto per le allodole, perché piace molto, noi su quello... È peccato perché l'avrei ricomprato. No, no, no. Il valore affettivo è enorme, mi ricorda Daniela. Non si ne parla. No. Quello lì proprio guai a chi ce lo tocca. Guarda, vi do tutto quello che ho in tasca. Insomma, veramente. Sono 200 euro. Di fronte al valore affettivo si discute, no? Infatti, grazie. È per il valore che si... Eh, infatti. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, Marchino. Ciao, ciao. Ah, gamba, eh. Giorno. No, no. Due euro. Invece la bici quanto costa? Allora. Lei quanto mi darebbe? No, lasciamo stare, non c'è soldi. No, non lasciamo stare, faccio un'offerta, butti di una cifra. Eh, ma in tasca ho solo 50 euro. Boh, dai, 50 euro. Sta scherzando? Sì, sì. Guardi che vale almeno 300 euro. Lo so, sono in vena, dai. Beh, se lo dice lei. Anche tanto non la uso e si arrugginisce. Grazie. È un peccato, ma niente. Salve. Piano, eh. Ciao, Fabio. Alla prossima, eh. Grandissimo. Grazie per il valore. Ciao, Michele. Ciao, Marchino. Io vado un attimo, magari... Fabio. Dimmi. Scusa, hai visto la mia bici? Era qua? No. Quale bici? No. C'era una bici qui? Sì, la mia bici qua, l'ho lasciata qui. No, no. Sinceramente, magari è in giro... Ma sei sicuro che... Marco, ti sto... Magari l'hai dimenticata in un altro store qui. Eh, gira un po'. Patata. Cos'è? Ma come hai fatto, amore? Ho fatto 50 euro. Dai! Sì, ho fatto un affare. Stasera... Sai che sono forte? Stasera andiamo a mangiare. Sono forte nella... Nella trattativa. Vieni qua. E vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non mi fai il gatto in merito. Pronti poccorne alla bieda per il mio ciccio. Oh, grazie. Salve. Doni! Ciao, Michele. Ciao, Fabio. Sediti, dai. Sì, grazie. Vuoi qualcosa da bere? No. Vabbè, sto a due minuti. Ma sì, dai. Salve. Ciao, Michele. Ciao, Fabio. Ciao, c'è anche Marco. Ciao, Daniela. Ciao. Dai, sediti anche tu qui con noi. Beh, sarei un po' in ritardo. Vabbè, due minuti, eh. Sì. Bello avervi qua i due, eh. Sì, sì. Cioè, nel senso carino. Sì. Volete che li lasciamo un po' da soli? No, no. Cioè, non crede, ecco, almeno per me, no, Dani? Per carità, guarda, non mi interessa sapere come Marco cerchi di dimenticarmi con quattordici ragazzi diversi. Beh, ti faccio notare, cara Daniela, che quattordici ragazze non bastano per dimenticare che la tua donna ti ha mollato per uno scimmione che gioca a biliardo tutto il giorno come hobby di paramotorini. Devi sapere, caro Marco, che lo scimmione, come lo chiami tu, quando siamo a letto non perde tre ore dietro ai preliminari. Io credo che ti piacessero i preliminari. Ecco, ti do una notizia, mi mandano in bestia. Come ti mandano tre ore? Non ci posso credere, ma... Eh, ma senti... Cioè, ma sei una psicopatica. Che ho passato tutti i sani della mia vita con una psicopatica. Ma guarda, chi lo dice, per carità, assolutamente. No, Michel, dove andiamo? Eh, boccorra, la birra, guardiamocelo spettacolo. Oh no, spiegami, cos'è che fa? Cos'è che fa lo scimmione, eh? Cos'è che fa? Pimpupà, parla di buca, puoi tornare a giocare con i montalini, frum, frum. Ma lo facciamo a fare anch'io. Ma tu un camionista qualunque. Guarda, lo spiegamo. Anche a te. Cosa è il bambino? Cosa è il bambino? Ma vai, ecco, però lì cos'è. Michelle, Cece, vieni a vedere. Vieni, 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 sei pronta per la sorpresa? Uno, due, tre, padabà! Amore! Calendare di Frabotte, ho tolto l'altro, che era volgare, abbiamo discusso due ore, per questo. Qui ci sono tutte le semine, tutte le lune, piene, mezze piene, eccetera. I segni zodiacali, gli ascendenti e in più le ricette. No! Se te vuoi puoi andare a vedere, farlo ti fare. Amore, lo sai che dopo sette anni ancora mi stupisci? È per quello che stiamo insieme. Ti amo. Anche io. Devo andare adesso, eh? Io non rimango qui a guardarmi le lune piene. Ah, però che lune piene, eh? Eh, guarda un po'. E questa cos'è, la semina? E cos'è, la semina? Ma ciao! Brava seminatrice! E qui abbiamo i mari e i monti. I mari e i monti. Ciao! Fabio! Che c'è? Vieni qui. Cos'è questo tono? No, Michelle, ancora lo calendario. Non possiamo litigare ancora per il calendario. Basta! Mi fa schifo, non lo appendo, non lo voglio. Basta! Ti fa schifo? Sì, me l'hanno regalato in edicola, l'ho appeso perché pensavo ci servisse un calendario in casa. Te l'hanno regalato, eh? Ma se dobbiamo farne uno psicodramma. Guarda qui che donna, tutta rifatta, volgare, con ste posizioni, con ste labrone. Brutto. Mi fa schifo, certo, è volgare, Michelle, da quanto tempo mi conosci? Per cui a te non piace per niente? Ma mi fa schifo, non è che non mi piace. Mi fa schifo, schifo. È una questione di dignità. Non posso vedere la donna ridotta. Cos'è? Questo cos'è? Ah, vuoi la prova della... No, non è una prova, visto che mi fa schifo non ti dispiacerà, no? Ma io neanche uso questi, ma io neanche uso questi, con le mani così, con le mani nude e crude. Ma pensa a te, adesso io secondo lei... Adesso questa cosa non ti dispiace per niente. Ma Michelle, ce l'ho in casa la donna calendario, ciccioteca, posso fare tutti i mesi, il mio amore bello. Gennaio, febbraio, ho bisogno di sta roba qua, ma stiamo scherzando? Ma pensa a te, questa... Poi volgari, fatte, brutte, putto, putto, schifose. Per cui possiamo andare a fare shopping, no? Ma certo che possiamo andare a fare shopping, certo. Bene, amore. Però basta litigare. Sì, sì, amore. Ehi. Che non faccio shopping, dai. Quei calendari assurdi, inutili. No. Non ti riconosco più. Dove sei? Ah, ecco, questo... Perché? Perché? Questa che parte... Ah, però... Ma che cosa sei diventato? Dov'è quella faccetta? Quella che mi ha dato tante soddisfazioni, dove sei? Dov'è? Ah, ciao! Aspettiamo qui. Perché? Potevo dire? No, Michel, no! Non so... Mario! No. Oh, Mario! Mario!